Ciao ragazzi, qui da Domino e Joelle. Oggi facciamo la sfida del skin supereroi challenge. Praticamente, allora, queste ho messo tra i miei preferiti. Dekul, armi bianche. Aquaman, armi verdi. Arlequin, armi blu. Capitano America, armi epiche. Poi Shulk, armi leggendari. Torr, armi mitiche. Mettiamo casuale, salva e esci. Facciamo pronto. E' uscito Capitano America, non so se in partita cambia. E ci vediamo in partita. Ciao. Ok ragazzi, siamo in partita. A me è capitato Capitano America, quindi armi mitiche. No. Sì, Jo. Armi mitiche, no, Jo. E mi ha detto che a me invece è capitata il skin, quindi armi verdi. A me anche i verdi. Allora, a me è capitato un po' male perché le armi mitiche non è che sono tutte molto... C'è, però io non posso difendermi perché sono armi mitiche. E se facciamo che mi indichi che vuoi dire un po' male? E se non è impossibile. E se non è impossibile. Poi andiamo... Questo è il sopra, vediamo Rairo. Eri... Ok, ce n'è uno qua. Andiamo a quello che è disperso. E' nulla. Ok. Allora, a me è un po' male. E' un po' male. E' un po' male. ora è di connessione io ero qua ho pingato con uno scudo caccia player è molto cacchi io c'ho un'arma leggendaria per ti conto comunque da oggi i funghi nascono in aria va bene io c'ho un'arma leggendaria se trovo un'arma leggendaria non è che ho proprio pulato no c'è il pompa però non lo uso guardi tranquillo ma c'è una cosa che trovo da una cosa per favore ci dimmi qualche cagnozzo o qualche cosa io sennò sei pure fortunata che le armi di torlo qua c'è lì sono in sterchi c'è il blu c'è uno scagnosso e un player non so scagnosso qua ok vai giù aspetta lo hacker c'è tanto no 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 ma non è solo una cosa eh sì perchè altrimenti io almeno tengo un compagno almeno se no proprio qua è impossibile qua c'è uno già quindi questo lo puoi incidere ok tieni la tua c'è un'arma degli scagnosi di blu si tieni eh sì se la lascia vabbè c'è una la si colpi pompa e giulega non tengo armi come faccio vedere colpi pompa ma però penso che c'è un'arma ok giù penso che colpi pompa ne ho però aspetta eh sì eccoli ok giù ci vedi così non ci sono droni non ci sono più droni oh no no non li vedo non li vedo io non penso che ci sono no li vedo sotto c'era una scuola ma non li vedo c'è una piccola mi ricordo un capitano dei anni leggendari e mitica come? a me erano le leggendarie erano torri ah no capitano america aspetta eh blu torri erano mitiche torri erano mitiche eh questa è la verona america rana blu scusate il replay esiste? esiste? esiste il replay papà? eh no dovrei spegnere la registrazione e poi l'attacchio non mi ricordo penso che fanno armi blu però eh beh è blu tanto non lo sai erano erano epiche erano sì epiche epiche oh questa era una leggendaria di brutto ma proprio questa la posso prendere perchè non è protagonale ma qui c'è un'arma è una corona eh no però è mitica sì la corona non so se la posso usare no perchè perchè non la posso usare ma c'è anche che per questa volta le leggendari si può la tavola se la posso usare poi poi fai yes che arrivano i miei commenti la prossima volta se la possiamo usare no e nei commenti se mi dica in realtà era Capitano America che se vabbè capito spero se la possiamo usare le leggende che però non si parla tipo non le volte di non le volte di ma le altre e le altre questa volta è una cosa è una cosa è una cosa è una cosa è l'unica volta che mi accontento di una pistolina o una revolver vabbè gioco a camion quindi erano epiche epiche due ha legume come te perchè abbiamo bugato le ruote del camion 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 pure meglio di prima senza ruote vabbè però perde vita stai suonando il problema non c'è carburante il problema il problema è che è distrutta ma no qua può restare prendiamo una macchina se saliamo sta ah sta schiacciando sta schiacciando il bottone per sta schiacciando il bottone per vabbè e sta lì da la montagna ok c'è un po' sì ma c'è un po' c'è un po' c'è un po' c'è un po' erano dei geni non si può arrivare ma nonè sta due chillie si That. erano dei geni infatti c'è Questa è lo che fanno. E io? Dove? L'avanciamolo! Lì dentro. Dove sta la pistola? Sì, sì, sì. Se no è possibile. Dove sei te con la macchina? No, sono altri player! Penso che vanno in safe. Vanno in safe, vero. Vanno in safe, vero? Vero. Poco, vero? Io dovrò andare un po' quella regola. Poi? Francesco stavo distendo. Se vengono bene o c'hai lì? No, non c'è il meditamento, ti ricordo. Allora, se vedo, devi prendere. Io ho vinto un po' lì. No, non c'è male. Non c'è NASDIZIO. Sì. Avrei provato qualche bottone tu, il forno ti riteniamo all'alto, al momento che c'è un bottone di forno, la terza fila, adesso non l'ho avuta, allora l'ho bisogna togliere la terza fila, invece in un po' di mangiare, si stavano in un po' di mangiare, a me e me mi da subito, c'è una piccola, ma poi c'è una piccola, perché l'ho bisogno di un po' di a sfavore noto, si dice sfavore? si è proprio italiano mi sembra strano sarei l'italiano, è proprio italiano a sfavore l'italiano? io non ho fatto l'italiano e le ho viste non sono cercato io farei il giro io voglio girare di là c'è una parola di grotto dove? è stato bianco o quello con la palla di grotto grotto comunque si chiama c'è uno qua sta qua, sta piccone giro a boccia giro a piccone giro 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 droni droni guarda 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 ma certo sono piccone con piccone perché questo po' mi sta pescando oh c'è la cosa aspetta aspetta ragazzi concedetemi questa cosa prendo almeno un'arma per diffuggerlo ma anche se no vabbè ma non è che il pompo a carica fa 670 metri e se li ha di fa 100 200 eh boh non ce ne sono altri? no no ma se è il suo una gialla gubata in questo che è il mappiccone mi arrenta la mia tecnica di scappare era giusta io non l'ho fatto se non sei già tanto se non sei 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 armaviola please please armaviola non mi ha messo scegli almeno bello bello che niente no? si almeno c'è un po' di masquerade bene un po' di piccone direi un po' piccone direi almeno se non non c'è di uno c'è tutto tutto l'asco prima ok quindi Leonardo è poi l'uccino però è una cosa molto improvabile oh non so cosa ne d'asco ecco sì comunque già queste cose fanno un cerchio sul fattoria così vabbè te non li vedi però c'è fanno un cerchio sul fattoria quindi se vuoi vedi in cielo c'è una stella illuminatissima che sono quei robot che vedi distrutti vicino al lago prendi allora io sono il medico mi chiameranno il medico vado al medico io devo trovare armi epiche poi trovo ai re bianchi diciamo che non ci siamo pagnati però possiamo avere una speranza forse 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 quella cassa però non la vedo sono morto non so però aspetta voglio tornare alla lobby e vedere che cos'era quello non ci sono aveva quattro di torno a nobile ma dietro casuale sì erano epiche no mitiche sì epiche erano avevamo ragione i comuni ecco e non è capitato leggendario vabbè la registazione finisce qua e già l'abbiamo Grazie.